Buongiorno a tutti Ottoliner, oggi andremo a parlare di un tema riguardante la cultura pop ma collegato alla geopolitica e all'economia, le dizzi, serie tv turche ma non chiamatele serie tv perché loro si offendono Le dizzi hanno delle caratteristiche loro proprie i produttori turchi, gli sceneggiatori turchi dicono che le dizzi non derivano come prodotto locale delle soppopere anglosassoni ma sono un genere a parte, durano più di due ore e in genere tendono a mostrare i conflitti tipici interni alla società turca e quindi il conflitto tra modernità e tradizione questo diciamo è un po' un dissidio interno alla Turchia che è esploso al termine della prima guerra mondiale quindi con l'ascesa di un leader carismatico Ataturk che alla fine dell'impero ottomano scelse di modernizzare radicalmente il paese e quindi di avviare una serie di riforme tra cui una pesante laicizzazione una svolta diciamo europeista occidentalizzante le dizzi tendono proprio a mostrare il contrasto tra gli usi e i costumi della popolazione molto radicata nella propria tradizione e nella propria religione e invece le pressioni istituzionali e comunque anche dei ceti più economicamente avvantaggiati dei ceti urbani, dei ceti più ricchi, più istruiti e che quindi solitamente sono anche quelli più occidentalizzati perché parlare però di questo fenomeno? innanzitutto perché questo fenomeno si collega ai cambiamenti geopolitici in atto nel mondo le dizzi hanno avuto un grandissimo successo nel corso degli anni dieci quindi nel decennio precedente al nostro in cui alcune di queste hanno portato sono arrivate in oltre 20 paesi in oltre 30 paesi sono stati quindi tradotti anche in altre lingue oppure sono state trasmesse nei paesi vicini alla Turchia o dell'ex impero ottomano sottotitolate ad esempio alcune università turchi hanno svolto degli studi su come in Kosovo, in Bosnia e Herzegovina e in Albania tutti i territori dell'ex impero ottomano e dove c'è anche una maggioranza di popolazione di fede musulmana gli spettatori delle dizzi in lingua originale sottotitolata imparavano una sorta di lessico base del turco questo quindi è diventato anche uno strumento di soft power di diffusione dei propri valori dei propri costumi della propria lingua ma il fenomeno è stato tale da spingere Erdogan a rivedere la propria posizione proprio su alcuni di questi prodotti mi spiegherò meglio in particolare quelli riguardanti il periodo ottomano generalmente hanno delle scene o se o meglio che il pubblico turco percepisce come o se perché un'altra caratteristica importante e un po' stupefacente di questo successo in occidente negli ultimi anni è proprio questa cioè che in realtà le dizzi rappresentano un modello culturale completamente diverso le scene di sesso sono molto ridotte generalmente sono molto brevi i protagonisti sono molto attenti al rispetto anche dei ruoli tradizionali di genere ma anche in generale proprio al rispetto di una sessualità ecco più tradizionale ora questo chiaramente viene un po' meno nelle ambientazioni storiche e aveva suscitato due malumori nel governo turco Erdogan tuttavia con una serie il secolo dorato ha scelto diciamo di ritirare un po' i problemi che il governo stava dando a questa serie innanzitutto perché nel mondo aveva oltre 200 milioni di spettatori ma anche per il livello di incassi dovete pensare che ormai da più di qualche anno le dizzi fruttano alla Turchia ha oltre un miliardo di dollari l'anno questo per un paese insomma emergente è un dato importantissimo aggiungo anche un altro dato un altro elemento nel 2021 la Turchia è stato il secondo paese esportatore di prodotti audiovisivi nel mondo e chiaramente le dizzi in questo hanno avuto un ruolo importantissimo qual è il dato però interessante che ci interessa che se fino agli anni 10 questo tipo di prodotti era prevalente nel mondo arabo e su questo devo dire che forse la produzione televisiva e cinematografica turca aveva anche cercato un po' di avvantaggiarsi delle primavere arabe per insinuarsi in nuovi stati a partire dagli anni 20 forse anche complici le piattaforme di streaming vediamo il dilagare anche al di fuori del mondo musulmano di questi prodotti e soprattutto l'arrivo in occidente ad esempio molto frequente molto di solito insomma quelli di voi che avranno Netflix potranno serenamente andare a vedere come spesso le serie turche compaiono nella top 10 delle serie più viste in Italia in quel momento ad esempio una tra tutte il sarto tra le altre cose ottimi gli attori storia complicatissima che assolutamente in occidente non sarebbe affrontata si affrontano tutta una serie di problemi di carattere ma questo è caratteristico delle dizi cioè ci si concentra molto sulla sfera familiare in un modo anche molto conflittuale quasi psicoanalitico generalmente si vivono dei forti dissidi sentimentali e si crea anche un triangolo amoroso ora tutto questo lo so che in qualche modo può ricordarvi Beautiful e può portarvi a dire ah no questo è insignificante in realtà quelli che avranno avuto modo di fruire di questi contenuti capiranno perfettamente che sono dei mondi completamente opposti perché generalmente a prevalere appunto è un'idea più tradizionale del rapporto dei generi col sesso dove il contrasto tra modernità e quindi individualismo e senso del dovere senso di appartenenza alla famiglia alla tradizione al villaggio è fortissimo e dove generalmente anzi si cerca proprio di mostrare un fortissimo dissidio interiore quindi mentre le serie tv occidentali danno un po' un modello dell'individuo libero che deve in qualche modo fermarsi nel mondo quelle turche danno invece un'idea più di un individuo più complesso più travagliato e che vive anche delle vicende familiari generazionali geografiche politiche molto più travagliate l'elemento centrale di tutte queste storie è proprio il passato ci sono serie che parlano delle comunità ebraiche nel corso del novecento a Istanbul serie che parlano della crisi cipriota serie che parlano dell'impero ottomano serie che parlano di Gobekli Tepe e quindi anche della preistoria le rileggono in termini fantascientifici ma comunque il passato la tradizione è sempre un elemento presente e questo non è affatto un elemento comune con l'occidente che invece ha più una produzione in questa fase distofiche quindi su una proiezione verso un futuro di solito apocalittico negativo non c'è solo questo elemento perché a un certo punto il governo turco ha cominciato a sostenere attivamente queste dizzi sono stati fatti anche qui degli studi e si è scoperto che questi ottenevano un discreto successo in occidente non nei paesi anglosassoni lì c'è una certa avversione a guardare i contenuti sottotitolati probabilmente non c'è neanche un grande lavorio di traduzione dal turco in presenza di un'industria nazionale si è notato invece che queste dizzi avevano larga diffusione in Africa e in Sud America addirittura sono stati fatti degli studi elaborati delle statistiche su come molti turisti sudamericani in particolare da Argentina e Brasile si regassero ad Istanbul proprio per andare a vedere le zone dei loro beniamini altra caratteristica infatti delle dizzi è proprio quella di essere ambientata spesso nelle strade in palazzi in parchi in luoghi reali delle città Istanbul ne è una delle più grandi protagoniste ma non solo anche i siti archeologici piuttosto che il mare turco tutto viene in qualche modo usato per dare una nuova immagine del paese un paese moderno dove ad esempio sono poche le donne velate ma non mancano serie tv che ad esempio mostrano il conflitto tra una paziente velata e una psicologa che deve fare psicoanalisi a questa donna pur avendo un pregiudizio verso di essa proprio in virtù del conflitto tra laicità e religione ma comunque tolta questa parentesi in cui di solito le donne non sono velate ma hanno comunque degli aspetti più tradizionalisti più tendenti al rispetto di un ruolo tradizionale del femminile al contempo questo però è vissuto comunque con un forte dissidio interiore con un forte problema interiore malessere interiore e tutto questo poi si manifesta appunto attraverso una serie di intrecci narrativi che appassionano lo spettatore anche qui vediamo una cosa fondamentale produrre contenuti audiovisivi apparentemente insignificanti è importantissimo e questo a livello geopolitico ha un enorme impatto non è un caso che la Turchia sia stato appunto il secondo esportatore di prodotti audiovisivi e ad esempio nel 2023 il quinto esportatore di materiali edili quello è segno di un paese che produce investe e in cui la leadership punta a sviluppare dei settori produttivi che diffondano un messaggio e che creino benessere appunto come creando posti di lavoro producendo elementi che poi vengono messi in circolazione che danno anche un rientro in termini di turismo alla prossima ricordatevi di sostenere Ottolina trovate tutti i riferimenti giù iscrivetevi al canale anche a quello in lingua inglese ciao ciao grazie a tutti